Considerate questo video come l'episodio 2. Voglio dire, non è necessario aver visto l'episodio 1 per capire di cosa sto parlando. Tuttavia, se non l'avete ancora visto, correte a vederlo. Dunque, in passato ho lavorato da Subway, e ad essere onesti, circa l'80% della clientela era normale. Anche se a volte facevano cose che personalmente mi davano fastidio, tipo chiedere una polpetta sopra una pocaccia. Oppure a volte le persone mi chiedevano, posso avere del tacchino con lattuga, pomodori? Oh, rallenta amico, che tipo di pane? Lo vuoi intero o a metà? Che tipo di formaggio? Lo vuoi tostato? E dopo mi dici i condimenti. E ogni volta che qualcuno scriveva l'ordinazione, dimenticava sempre qualcosa. Sempre. Nessuno è mai venuto con un ordine completo. Io chiedevo, che tipo di formaggio? Eh, non l'hanno specificato. Certo, non l'hanno specificato, allora faccio di testa mia, no? Se qualcuno che sta guardando attualmente lavora da Subway, allora sentitevi liberi di utilizzare questi trucchetti. Se qualcuno chiedeva, ehm, che tipo di formaggio consigli? E rispondevo sempre provolone, perché era il più facile da prendere con i guanti. No, sul serio, se qualcuno mi avesse chiesto cosa consigliassi, avrei sempre detto la cosa più semplice da fare. Ma anche dopo aver dato la mia interessante raccomandazione sul provolone, a volte le persone continuavano a dire Prendo l'americano. Cosa cazzo chiedi, quale formaggio raccomando, se poi non mi prendi sul serio? Un'altra cosa che mi infastidiva era quando le persone mi dicevano che il panino era completo, allora io chiedevo se volessero della salsa e loro rispondevano Oh sì, maionese! Attenzione, non sprecare il tuo fiato, eh! Dovete sapere che la macchina per lo scontrino impiegava circa 7 secondi per stampare la ricevuta. Ed era così imbarazzante quando chiedevo Desidera la ricevuta? Sì, perché no? E allora guardandoci l'un l'altro calavo il silenzio tombale finché... Non si stampava la ricevuta. Così sviluppai una nuova tecnica, quando qualcuno avrebbe strisciato la propria carta di credito avrei iniziato a fissare il vuoto per 5 secondi finché non avrei chiesto Desidera la ricevuta! E come per magia nel momento in cui avrebbe detto sì Brrrrrr Si stampava la ricevuta. Da Subway lavoravi solo con un'altra persona quindi se qualcuno si voleva lamentare diceva Vorrei parlare col suo capo! Ascolti, riferisca pure a me L'unico altro dipendente in questo negozio è una ragazzina di 16 anni e tecnicamente non è abbastanza grande da poter utilizzare un tostapane Ed essendo il più competente sono il capo È assurdo che le persone pensano che il capo sarà automaticamente dalla loro parte e darà a loro la roba gratis Chi lo pensano perché succede sempre cazzo Mi considero un impiegato di Subway nella norma Non mi piaceva essere taccagno con le persone anche se disobbedivano alla formula di Subway di proposito Oh come dice? Vuole più di 6 olive nel panino Pfff, certo Ecco a lei una quinta fetta di formaggio 1,50 euro per un avocado Pfff, ti addebiterò a 75 centesimi bro Probabilmente non dovrei dire tutte queste cose sapete nel caso in cui tutta questa roba di YouTube fallisse e avessi bisogno di un lavoro Io non ero troppo rigido con le regole sapete alcuni sono tipo Non serviamo la colazione alle 10.02 Ma la mia bontà non ha comunque impedito che alcune persone mi dessero fastidio Una volta una persona mi chiese due panini pastrami Il pastrami è il nostro panino più costoso Un panino costa più di 10 euro E ragazzi il pastrami è super buono ma non li vale Cioè è buono sì ma non li pagherei 10 euro Nel senso Ok sarò onesto Non ne vale la pena Quindi alla fine gli preparo due panini Lo chiamo e dico Sono 20 euro E credo che non abbia guardato il prezzo del panino sul menù Magari pensava che ci fosse ancora l'offerta del pastrami Io non ti darò 20 euro E questo è successo quando avevo appena iniziato Avevo solo una settimana di esperienza E dopo che mi disse così Io gli ho risposto Cavolo dici sul serio Non pensavo che qualcuno potesse arrivare a farlo Ehi vorrei questo Bene sono 20 dollari No Non lo vuoi No lo voglio Solo che non lo pagherò Ok in realtà abbiamo raggiunto un compromesso Mi disse che aveva solo 12 dollari Così ha finito per pagarne solo uno Mentre l'altro l'ho mangiato io Allora una volta stavo facendo un panino per un tizio Con un accento molto strano E mi chiese le cipolle a parte Nessun problema Mettevano le verdure a parte In delle piccole coppe molto spesso Anche se in realtà ho usato una tazza per le zuppe Perché le coppe erano troppo piccole Così ho iniziato a prepararle Ma lui mi disse No sollato Così penso oh ha preso un filone Probabilmente vuole la cipolla solo su una metà Non sull'altra Così inizio a mettere la cipolla su una metà del panino Ma di nuovo mi dice No sollato A questo punto era chiaro che non avevo capito cosa volesse Così gli chiedo Sullato di cosa? E lui urla Cipolle Non ho mai capito cosa cercasse di dirmi Questo anziano signore mi chiese di mettere le salse sulle verdure Di solito noi le mettiamo in cima al panino Non sulla carne E non sono certo di aver capito bene Perché le metto la salsa e chiudo il panino Ma fondamentalmente la salsa è finita nello stesso spazio di sempre Non cambiava nulla la sua richiesta Ah una volta una signora ha dato a me Corey una mancia di 50 euro Sì lo so che non c'entra niente Ok una volta questo nativo americano entra E non so se questa storia rientra nella categoria di clienti di oggi Ma ormai ve la racconto Entra e chiede 5 filoni al tonno Ok Tyler siamo solo io e te Facciamolo E poi quando finimo tutto lo chiamammo e dicemmo qualcos'altro 7 panini con pulpite Che cosa volevo altri 7 panini Ma James siete da Subway Dovreste fare alle persone i panini indipendentemente da quanti ve ne chiedono Sì lo so ma il tizio avrebbe potuto gestirla diversamente Normalmente per un vassoio devi chiamare almeno un'ora prima E ci entrano solo 5 filoni Questo tipo avrebbe potuto chiamarci prima e dire Devo prendere 12 panini quindi preparativi mentalmente Cioè c'erano tanti altri clienti che aspettavano in fila No non è vero è una bugia c'era solo lui ma che ca A quest'altra signora stavo facendo il panino e mi ha chiesto di metterci della lattuga extra Così gliene metto una bella manciata ma mi chiede di metterne ancora Allora gliel'ho messa Ancora? Gli ne metto un'altra Ancora? Beh non potrò chiudere il panino con un'altra lattuga E mi dice Va bene Ok allora lattuga extra sia Così ho finito per darle un panino aperto con una montagna di lattuga Lo sapete che facciamo le insalate si? Quando ero piccolo ho sempre pensato che se mi fosse ritrovato a lavorare in un negozio E qualcuno avesse cercato di derubarmi Non gli avrei dato nemmeno un euro Ma ora sono tipo Non rischierò la mia vita per Subway Ecco prendo anche la casa se vuole Poi per fortuna nessuno mi ha mai puntato una pistola addosso Ma ho beccato delle persone a rubare da noi Stavo facendo il panino a un tizio quando questo bambino mi chiede un semplice bicchiere d'acqua Così glielo do e torno a fare il panino Quando sento il tipico suono di una bibita gassata quando viene versata Mi giro e il bambino stava mettendo la coca nel bicchiere Non ha nemmeno provato a non fare i rumori Se devo fare una cosa del genere aspetto che l'impiegato se ne vada Ma alla fine non gli dissi nulla Ero tipo Ok amico Questo ragazzo l'ho visto prendere una busta di patatine e nasconderla sotto al banco Così che secondo lui Non potessi vederlo Chiamai il suo panino e gli chiesi qualcos'altro? No Va bene questa è l'ultima storia Ero nel retro a giocare a Clash of Clans E avevamo un computer con un monitor per le videocamere Io ho notato che una signora che stava mangiando da noi Ha preso tre coppe grandi Ma non ho fatto nulla per fermarla Sapete sono il tipo di persona per cui l'impiegato del fast food ha sempre ragione E se stessi mangiando da qualche altra parte Chiedessi un'insalata di pollo e mi dicessero Abbiamo solo insalata di tonno Beh io direi Va bene Prenderò un'insalata di tonno allora Penso che la gente debba capire che i ragazzi che lavorano in fast food Sono in realtà delle persone E non qualcosa che puoi usare per avere panini gratis Intendevo questo quando nello scorso video dicevo che Ad un certo punto tutti dovrebbero lavorare in un fast food Per capire com'è lavorarci Guardate Questa sta veramente mettendo sei olive in un filone Ops Una è anche caduta Ok abbiamo finito Ok abbiamo finito Ok abbiamo finito Ok abbiamo finito Grazie.